ciao a tutti e ho aspettato fino all'ultimo a mandarvi questo video perché la speranza era quella di poterci essere perché mi sarebbe piaciuto tantissimo essere presente a una manifestazione così importante che ricorda insomma due persone di leff che mi hanno dato tantissimo insomma il presidente radici e poi il mio grande compagno di squadra perché a cui veramente mi lega un ricordo indilebile e mi sarebbe piaciuto molto essere lì a ricordarlo col sorriso e con la sua ironia che mi ha aiutato tanto quando ero lì da voi un ragazzo giovane per cui vi abbraccio forte e spero ci sia altra occasione per potervi rivedere riabbracciare riabbracciarvi e ricordare queste persone che mi hanno dato tanto un grande abbraccio e spero sia una bellissima giornata vi abbraccio ciao ciao